buongiorno oggi facciamo memoria di san pio da pietra alcina frate cappuccino la cui devozione è diffusa in tutto il mondo tanto amato dal popolo cristiano lo facciamo facendoci illuminare ancora una volta dalla parola del vangelo oggi il capitolo 8 di luca continua nei versetti dal 16 al 18 e gesù propone una parabola quella di una lampada accesa che dice nessuno mette sotto un vaso sotto il letto perché se lo fa la lampada accesa non illumina la casa il candelabro non serve a nulla una lampada un candelabro che porta le luci accese deve essere posto in modo che nella stanza ci sia luce e si possa vedere che cosa significa per noi questa parabola che le cose di dio vengono alla luce e che al contrario ciò che viene alla luce illumina ciò che veramente è di dio la parabola riporta la dimensione della segretezza quando abbiamo un'esperienza che riteniamo spirituale religiosa o di fede e la teniamo chiusa dentro il nostro segreto del cuore in maniera però non da custodirla umilmente ma in qualche modo da sentirci come dei privilegiati delle persone migliori superiori agli altri perché crediamo di avere avuto una illuminazione particolare dal signore quando queste nostre intuizioni o esperienze questi sentimenti che riteniamo religiosi non li confrontiamo e non li mettiamo a disposizione di chi ci guida perché ci aiuti a discernere se sono veramente da dio ecco che cadiamo nell'errore e nella presunzione di possedere dio e la sua presenza senza in realtà lasciarci guidare dalla verità se una esperienza interiore viene veramente da dio se è lo spirito santo che ci parla allora non abbiamo paura di confrontarci con la nostra guida spirituale con la comunità con le persone preparate che possono aiutarci a discernere un'esperienza di dio che è autentica rispecchia la trinità che è relazione e spinge verso la verità questo significa portare alla luce i nostri pensieri i nostri sentimenti le nostre intenzioni chi si vergogna di tutto questo chi fa di tutto perché gli altri non sappiano e agisce in realtà cercando di affermare quelle che sono le proprie idee i propri pensieri le proprie illusioni non è certamente secondo la logica di dio magari pensa di esserlo crede di avere ma perde tutto perché non si apre a una relazione che lo purifica dall'orgoglio e dalla superbia di credere di possedere dio la verità è relazione sempre la luce viene quando accendiamo il dialogo l'incontro con l'altro l'umiltà è frutto del coraggio del confronto del non mantenere mai sotto il letto il tavolo la cenere sotto le nostre difese quello che crediamo essere di dio ma che invece forse dice sono del nostro egoismo con questa parola ci fermiamo per una settimana e ci dedichiamo alla preghiera al silenzio in modo da lasciarci nutrire da questo stesso vangelo che ogni giorno commentiamo meditiamo e preghiamo insieme ci risentiamo il 30 settembre buona giornata buona settimana